Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale Fandat with Lalla. Rieccomi con un nuovo video plannerino tutto per voi. Ho decorato la settimana di San Valentino, spero che vi piacerà. I colori che ho scelto per decorare sono oro e rosso, proprio in tema San Valentino. Per decorare ho utilizzato i blocchi che ho comprato da Michaels, questi sono proprio per la Happy Planner. In più ho usato i washi presi da Michaels di Heliswap e alcuni comprati su internet. In più, un'altra cosa che ho utilizzato sono i timbri presi da Tiger, quelli con le lettere. Se volete vedere nel dettaglio tutti i prodotti che sto utilizzando, basta che cliccate sulla playlist relativa al mondo della cartoleria. A presto. 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.